Dopo anni c'è una struttura di cui si riappropria la città, se ne riappropria con la creazione di un centro di aggregazione giovanile. Qual è il messaggio che l'amministrazione comunale dell'Eguidata vuole dare al centro di Soveria Mannelli? La domanda è estremamente pertinente. Il messaggio è duplice. Innanzitutto ci troviamo in un immobile che è stato abbandonato per oltre 40 anni, per cui stiamo intervenendo su un simbolo di degrado sociale e culturale, urbanistico, che ha interessato questo Paese, posto al centro del Paese e interveniamo con un ponno sicurezza, quindi con un finanziamento che serve per alimentare, per valorizzare, per promuovere la cultura della legalità nel nostro territorio. Quindi è una giornata che è permeata da un duplice valore simbolico, al quale si aggiunge poi la concretezza di un'opera che non è un'opera fino a se stessa, ma un'occasione, un'opportunità per i giovani, per gli individui, per le famiglie di curare interessi, di occupare il tempo libero, di avere occasioni di formazione e di crescita, con le attività che il centro di aggregazione giovanile, che oggi si inaugura alla presenza delle autorità prefettizie, il Vescovo e la Deputazione della Regione Calabria, vogliamo consegnare alla cittadinanza. Grazie.